ragazzi oggi parliamo di fari led per l'uso in interni esterni con pannello solare fotovoltaico questi sono alcuni modelli commerciali vedi queste sono celle monocristalline ok questo è un monocristallino questo è un policristallino monocristallino qui ha il suo connettore ok guardalo ovviamente annesso al faro guarda che bello guarda anche quello guarda anche quello guarda anche quello questi sono policristallini e abbiamo la scheda tecnica su questo 12 volt 3.85 ampere corrente di circuito di cortocircuito questi cinesi scrivono pure male circuito corto guarda quel circuito al contrario ragazzi non sono farà neanche una traduzione ai 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 potenza massima 35 watt tensione massima e vmp 10 volt tensione di corto di circuito aperto 12 volt boc corrente massima potenza 35 ampere tensione massima di sistema di sistema 1000 volt perciò possono essere messi ovviamente anche in serie andiamo a vedere questi più piccoletti sempre poli cristallino hanno l'etichetta si 6 volt ottimi 2 ampere 7.2 volt e al circuito aperto il cortocircuito 2.2 ampere anche questo mille mille volt come sistema serie massimo questo è uguale a quello simile a quello cambia brand cambia etichetta e allora 6 volt 2.7 tanto 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 andiamo a vedere questo che è un intermedio ok abbiamo 6 volt 3.33 ampere 7.23 ok bene lì ne abbiamo un altro piccolino che va cablato con un faretto che già ragazzi sto smontando perché era rotto e lo devo riparare con questo qui guardalo ci sto mettendo mani su ragazzi devo dare una controllata perché non funziona allora qui ho quest'altro faro questo faro inizialmente non funzionava ok l'ho riparato l'ho riparato utilizzando questi questi sono dei kit per la riparazione dei miei dei faretti con un telecomando annesso ovviamente telecomando con mini stilo ragazzi vi lascio sotto tutto in descrizione e allora cosa succede a questo punto ho sostituito la vecchia board che era questa questa media i led che mi segnalavano stato di carica tutto ciò che appunto potevo poteva interessarmi questo è il riflettore per il modulo a chip smd qui abbiamo la scheda eccola qui con tutti i led ragazzi 256 led guardali che sono belli ok questa è la nuova scheda nuova scheda che ho sostituito a quella vecchia e allora questa scheda come caratteristiche che io vi riporto perché ce l'ho qui allora aspetta un attimo prendo le viti rimetto da parte ok caratteristiche di questa scheda ragazzi allora queste intanto sono le batterie sono delle live e più 4 1 2 3 4 5 6 p 1 s sono tutte in parallelo sono le cellone ragazzi quelle grandi che ora non mi ricordo il modello ma mi pare le 26 6 50 questo questo infatti funziona sia con l'ife più 4 questo controller che con l'idio ioni indifferente bene però attenzione può funzionare solo con pannelli solari che hanno tensione da 5 a 6 volt inferiore ai 25 watt perciò nel mio caso per i faretti quelli piccoli e gli andrò a mettere questo controller ragazzi e allora questo controller ha la possibilità di utilizzo vedi sia qui manualmente tramite il tasto on off on off o eventualmente a distanza tramite il suo bel telecomando on off eccolo qui aspetta un attimo vediamo se ok accendiamo e ora possiamo pilotarlo possiamo regolare anche modalità automatica vediamo se metta a fuoco eccolo qui automatica cioè quando il pannello solare capta e la luce lui si spegne quando il pannello solare non genera più energia lui e allora quando lo possiamo programmare anche con il funzionamento automatico eccolo qui questo tasto cosa fa quando c'è luce led quando c'è la luce del sole i led si spengono quando è ricarica la batteria giustamente quando arriva la sera in automatico il pannello non produce più perciò passa al funzionamento batteria e accende le luci posso programmare regolare anche l'intensità della luce 123455 livelli di intensità luminosa poi ci sono altri programmi ragazzi che come vedi c'è 3 h 5 h 8 h sono le ore di luce dopo il buio cioè se io voglio farlo accendere per tre ore da quando se ne è andato via il sole basta che pigio questo lui flascia e mi dà conferma che ha recepito il messaggio e per tre ore starà acceso e allora ragazzi ciò che ora devo fare io per questo faro è la sostituzione del vecchio vetro perché il vecchio vetro si è distrutto si è rotto e perciò sono obbligato a trovare una soluzione alternativa per poter utilizzare ancora questo faro ho pensato di fare cosa oltre che cambiare la centralina ho pensato di giustamente di andare a mettere un vetro nuovo vetro nuovo ma non appunto di vetro ma di plexiglas tagliato il plexiglas preciso qui a misura lo andrò a mettere poi lo andrò a bloccare con questi che sono tutti i morsetti laterali con le vidi piccoline eccole qua eccole qua vedi tutti i bull ai dati fai i bulloncini filettati piccolini e si va a mettere poi fuori in in giardino col pannello solare da sei volt più grosso che abbiamo visto poc'anzi niente ragazzi per questo video è tutto io ti ringrazio dal faro led e tutto e da gli fari e i pannelli e anche tutto se non sei iscritto al canale fallo immediatamente ragazzi vedrete tanti video molto interessanti nel corso delle prossime settimane qui vi mostro nuovamente tutti i pannelli solari che ho in garage eccoli qua pannelli solari fari led e ragazzi avete domande avete questioni in merito a questa tematica scrivetemi pure sia sotto in descrizione che anche se volete tramite mail ciao belli a tutti al prossimo video